Musica Vivere con la sclerosi multipla, cosa cambia nella vita dopo una diagnosi? Come non ci si fa fermare da una diagnosi? Sicuramente bisogna continuare dopo una diagnosi che è impegnativa, perché quando uno scopre di avere una malattia autoimmune, invalidante, cronica, degenerativa è una cosa che un po' rende il futuro incerto. Però fondamentalmente oggi grazie alla ricerca, grazie a tanti farmaci che oggi nel 2019 abbiamo a disposizione si può convivere oltre questa patologia che permette di ambire ai progetti di vita che ognuno si prefigge. Avere la consapevolezza di una malattia complessa, ma avere anche la progettualità di quelli che possono essere i propri sogni? Senz'altro, non fermarsi ai limiti che magari ogni tanto la malattia ci dà quotidianamente, ma comunque voler andare oltre questi limiti. Ripeto, è una sfida quotidiana questa malattia, dove uno oggi e in un modo domani non sa perché è veramente una malattia che così dall'oggi all'indomani svela le sue cattiverie, perché alla fine non si può veramente, come dire, programmare come si sta domani. Però grazie a queste terapie uno fa di tutto per ralentare la progressione. Molto spesso è una malattia che non si vede. Questo è un problema, è un grande problema, anche perché l'85% delle persone colpite in Italia, nel mondo comunque, però in Italia siamo al momento, secondo il nostro barometro, che è un ottimo strumento, che ci permette di numerare, di dare anche l'impatto della malattia in Italia. Siamo a 122.000, pensare che l'85% ha questa RR, quindi la relapsing, remitting, è una tipologia di SM che porta delle ricadute, delle rimissioni. D'altronde io la denomino, vorrei dirlo così, senza rimorsi e senza rimpianti, perché bisogna sempre sfidare e andare oltre. È veramente complicato quando è invisibile, nel mio caso specifico, ma questo non preclude che io la vivo e ho i miei limiti e cerco di comunque non farli troppo pesare alla famiglia, all'entourage, al lavoro e di dare sempre il massimo, perché ognuno di noi ha la propria dignità.